La politica non metta in liquidazione le imprese. Con questo messaggio, Rete Imprese Italia ha indetto per lunedì 28 gennaio una giornata di movilitazione nazionale. L'iniziativa è stata presentata a Roma nel corso di una conferenza stampa. Dati allarmanti sul numero delle piccole imprese che hanno chiuso i battenti negli ultimi due anni, sul conseguente calo dell'occupazione e quelli che documentano le difficoltà in cui versa un numero sempre maggiore di famiglie, inducono oggi Rete Imprese Italia, la federazione delle organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese, a tornare a denunciare, in vista del prossimo appuntamento elettorale, la gravità di una situazione che mette a rischio una componente fondamentale del nostro tessuto produttivo. Confartigenato e Confcommercio Vicenza, che rappresentano oltre 34.000 imprese in provincia, parteciperanno alla giornata nazionale di mobilitazione indetta per lunedì 28 gennaio. I rappresentanti di Confartigenato e Confcommercio, con in testa i rispettivi presidenti Agostino Bonomo e Sergio Rebecca, parteciperanno quindi ad un'assemblea unitaria che si terrà nella sala palladio della Fiera di Vicenza a partire dalle ore 10 e 15, appuntamento aperto al mondo delle istituzioni e della politica, in particolare ai candidati alle prossime elezioni nazionali. La giornata di mobilitazione è stata presentata in settimana a Roma, nell'ambito di una conferenza stampa dove il presidente di turno di Rete Imprese Italia, Carlo Sangalli, ha sottolineato che gli opportuni interventi di rigore per contenere il costo del debito pubblico sono stati attuati al prezzo salatissimo di un'impennata della pressione fiscale, pesanti gli effetti recessivi che hanno riportato il reddito medio delle famiglie ai livelli di 27 anni fa, provocando un drastico calo dei consumi. Le piccole imprese, che rappresentano il 60% del prodotto interno lordo e dell'occupazione, ma che non reggono più il peso di una tassazione record del 56% e di una burocrazia che impone un addempimento ogni tre giorni, chiedono al mondo della politica di poter tornare a costruire lavoro e benessere nell'interesse del paese.